Ciao, sono Zani di Turbolop.it. Queste sono le novità di criptovalute e Bitcoin per il 12 luglio 2018. Seguimi! Bene, per prima cosa vediamo l'andamento dei prezzi nella giornata odierna. In linea di massima le criptovalute hanno conservato tutte la propria capitalizzazione. Osserviamo un pochino di rosso in alcuni punti decimali per quanto riguarda Bitcoin, Ethereum, Ripple e le altre criptovalute principali. Però non manca un pochino di verde, ci sono state anche alcune buone notizie che hanno comunque spinto verso l'alto alcune monete e alcuni token, alcuni piuttosto popolari. Prima di entrare nel vivo delle notizie volevo dare un'occhiata a questo sito, similarweb.com. Volevo segnalarvi questo giochetto che ho fatto. Similarweb.com di fatto gli diamo in pasto, gli diamo in input un dominio che ci interessa tenere d'occhio e ci restituisce il traffico stimato per quel particolare dominio. Ho fatto questo esperimento con il sito coinbase.com e ho notato un aspetto molto interessante. In particolare il numero di total visits, cioè il numero totale di visite quotidiane rispetto a gennaio 2018 è oggi precipitato. In particolare coinbase.com a gennaio 2018 totalizzava 126 milioni, 126 milioni e 500 mila visualizzazioni al giorno, mentre sul giugno 2018 è precipitato a soli 28 milioni e 400 mila, quindi ha avuto un abbattimento verticale. Notiamo che in particolare è stata una cosa progressiva e graduale. C'è stato un fortissimo calo da gennaio a febbraio e poi la discesa del numero di visitatori a coinbase è scesa moltissimo. Questo è un dato molto interessante per noi investitori, per noi interessati al mondo delle criptovalute perché ci rivela che l'interesse del mercato retail, quindi dei piccoli investitori come siamo io e voi per il mondo delle criptovalute sta precipitando, sta scendendo davvero molto velocemente. Non sappiamo come si sta comportando il mercato istituzionale, gli investitori quelli che ci mettono dentro veramente tanti soldi perché utilizzano canali differenti, però coinbase è generalmente considerato il principale exchange per convertire moneta fiat, quindi euro e dollari in bitcoin, ethereum, litecoin e tutte le altre. Quindi proprio questo declino nel numero di traffico significa che gli investitori retail come noi stanno perdendo un pochino di interesse, anzi un pochino, un bel po', hanno perso un bel po' di interesse negli ultimi mesi. Questo ci spiega anche perché i volumi sono scesi così tanto, sicuramente i volumi sono scesi molto, un pochino perché il prezzo unitario della moneta è precipitato, ma anche perché sta evidentemente entrando sempre meno liquidità all'interno di questo mercato e questo ovviamente non è una cosa buona. Ho fatto la stessa cosa anche con coindesk.com, uno dei principali siti informativi per questo settore, quindi di nuovo a gennaio 2018 registravano quasi 40 milioni di visite, mentre oggi a giugno sono scesi a poco più di 11 milioni, quindi anche in questo caso la fonte informativa ha avuto un tracollo nel numero di visite. Proprio Coindesk ci ha segnalato questa notizia molto importante per Litecoin, in particolare la fondazione Litecoin ha acquistato quasi il 10% di una banca tedesca piuttosto popolare, si chiama VIG Bank, io non la conoscevo, da quello che ho capito trovando in rete si tratta di un gruppo tedesco classico bancario tradizionale. Lo scopo di questa acquisizione è stato fatto quello di traghettare la banca nel nuovo millennio, nel nuova era tecnologica, appunto introducendo la possibilità anche di movimentare criptovalute nei pagamenti per i clienti della banca. La cosa più interessante è che la Litecoin Foundation, appunto l'ente no profit che presiede lo sviluppo di Litecoin, è entrata tramite token pay, quindi una sorta di azienda terza che appunto ha ceduto il suo 10%. Cosa molto importante è che la banca non esclude di, non escludono nei piani di entrare anche con il rimanente 90%, quindi comprare quindi sostanzialmente tutta la banca o comunque una parte, una parte importante delle remaining share, quindi delle azioni che ancora sono rimaste sotto il controllo della banca centrale. Questo articolo mi ha colpito in particolare perché il direttore, questo Fonhauf della banca, ha detto che in futuro le banche faranno, adotteranno i meccanismi della blockchain in modo inevitabile, quindi è inevitabile che le banche in futuro adottino questo metodo per transare denaro. Questa dichiarazione mi ha molto colpito perché sicuramente è molto forte, detta soprattutto da un bancario. Altra notizia ovviamente, Litecoin, il prezzo di Litecoin ha avuto un'impennata in seguito a questa notizia dell'acquisizione della banca, anche se in effetti ha avuto un'impennata, vediamo se riuscirà a durare oppure come mi aspetto, si tratterà di uno spike temporaneo, quindi di un'impennata temporanea dovuta alla notizia, ma appena parserà la news si ritornerà nel solito andamento di lateralizzazione oppure di discesa, addirittura se Bitcoin non ricomincerà a salire verso l'alto. Proprio Bitcoin, quali sono le possibilità che riparta verso l'alto? Questo articolo di sempre CoinDesk ci dice che potrebbero esserci i tratti per una ripresa e un andamento verso l'alto. Staremo a vedere, c'è un pochino di analisi tecnica che da quello che ho capito mi sembra abbastanza credibile e mi sembra abbastanza on point, quindi credo che possa essere credibile questa ripresa di Bitcoin nel breve periodo. Venendo alle altre notizie di oggi, NIO è stato sotto i riflettori proprio per il recente comunicato, non abbiamo già segnalato ieri, sul lancio di NIO 3.0. Scopriamo quali sono le novità principali di questa nuova versione per quanto ci riguarda, quindi dal punto di vista finanziario e di utilizzo quotidiano delle monete NIO, si parla di renderle divisibili. Infatti, come noi tutti sappiamo, fino ad oggi non era possibile inviare 0,1 NIO oppure 0,5 NIO. Dovevamo mandare 1, 2, 3 unità secche, quindi in questo momento in cui il prezzo si attesta attorno ai 30 dollari non è un enorme problema, ma quando il prezzo era di 125 dollari al NIO la cosa diventava un pochino complicata da gestire e poco pratica. C'è appunto una proposta di rendere NIO divisibile e rendere anche GAS divisibile per il pagamento dei servizi, lo scopo di GAS è appunto quello proprio di pagare le tasse, chiamiamole così, quindi i costi sulla rete decentralizzata delle DApp. Quindi si parla anche di rendere GAS divisibile, oltre a incrementare la quantità di GAS distribuita a chi detiene NIO ogni anno. Sicuramente una buona notizia. C'è da dire che non tutti sono d'accordo perché temono che possa perdersi un pochino il valore o di NIO, possa sminuire il valore o di NIO o dello stesso GAS. Stanno parlando appunto su GitHub di questa proposta, non è ancora definitiva, e vedremo un po' che cosa voterà la community di NIO e quale sarà poi la decisione finale. In questo momento una cosa interessante da notare è che appunto NIO si sta attestando attorno ai 33 dollari al pezzo ed è la cifra più bassa da novembre 2017. Quindi chi volesse valutare di aprire una posizione in NIO, ovviamente non ci sono garanzie che il prezzo non scenda ancora, però sicuramente lo consiglierei più ora rispetto ad entrare quando era già arrivato oltre i 130 dollari al pezzo, come era successo, sul finire del 2017. Dicevamo che non tutti sono d'accordo sulla divisibilità di NIO e GAS. C'è questa bella discussione su Reddit nella quale ci sono un paio di persone che si stanno confrontando appunto su quali sono i pro e i contro di rendere GAS e NIO divisibile. Un bel argomento. Questo articolo ho preso di NIO for beginners, ci sono un paio di spiegazioni appunto sulle novità di NIO 3.0, ci sono anche un sacco di altre cose per gli sviluppatori e per chi sviluppa le applicazioni distribuite, ma l'ho preso, ho segnalato in particolare questa frase che mi ha colpito molto. Entro il 2020 il team di NIO spera di raggiungere un TPS, quindi un numero di transazioni per il secondo, di 100.000 transazioni per ogni secondo, cosa che renderebbe la blockchain di NIO veramente veloce. velocissima, velocissima. Appunto ho aperto anche questo video, c'è questo Cico che non conosco ma sembra avere un forte seguito su YouTube che appunto anche loro ha dedicato un approfondimento a NIO 3.0. Altra novità riguarda invece Navcoin, stanno per rilasciare il wallet 4.3, quindi la nuova versione del wallet per desktop. Ci sono due novità di cui una mi sembra molto interessante, c'è l'introduzione degli open alias. Che cosa sono? Sono sostanzialmente la possibilità di riscambiare dei Navcoin utilizzando un indirizzo come mio nome, chiocciola nav.community al posto della stringona alfanumerica che costituisce generalmente l'indirizzo pubblico al quale inviare Nav per fare una transazione. Mi sembra una buona novità. Sempre rimanendo in tema di Navcoin, vi segnalo questo post che ho trovato appunto sul Reddit di Navcoin in cui c'è questo artista che segnala questo bellissimo quadro che ha realizzato appunto per celebrare Navcoin. È interessante al di là di tutto perché ha postato questa immagine che è ad alta risoluzione appunto e ha detto che non ci sono problemi se qualcuno lo vuole utilizzare come sfondo del desktop. A me francamente è piaciuta moltissimo e credo che appunto scaricherò l'immagine e la salverò come sfondo. del desktop. Altra cosina interessante che segnalo su Reddit è appunto questa discussione in cui si parla di Oyster, Oyster Pearl, un altro delle criptovalute a cui abbiamo dedicato un approfondimento su Turbolab.it. Si parla in particolare di qual è il livello di ridondanza, cioè qual è la possibilità che appunto la rete distribuita a Oyster Pearl conservi i dati. Come sappiamo appunto Oyster Pearl è una rete che si basa su IOTA e consente di, di archiviare dati in maniera distribuita, quindi di salvare i nostri file su questo spazio chiamiamolo cloud decentralizzato. Gli ha risposto il community manager dicendo che in questo momento la ridondanza è insanely, quindi è passamente alta. C'è ridondanza a IOSA probabilmente perché in questo momento non c'è particolare domanda di storage e quindi stanno replicando tutto quanto sui vari nodi. Quindi in questo momento l'affidabilità di questo meccanismo dal punto di vista almeno della ridondanza è altissimo, quindi anche in caso uno, due o tre nodi vadano giù, quindi si spengono i nostri file, dovrebbero comunque rimanere facilmente recuperabili. Mi è cresciato il sito adesso di Nulls.io, altro progetto che avevo segnalato tra le mie criptovalute preferite, fra quelle appunto un pochino più speculative, hanno lanciato questo nuovo sito con queste animazioni che francamente mi piace molto di più rispetto a quello vecchio cupo buio che sicuramente sminuiva un pochino il valore di Nulls per la blockchain. Ci sono una serie di informazioni facilmente dirigibili e il sito in generale mi sembra più gradevole. C'è un po' troppo movimento per quelli che sono i miei personali gusti, però il sito secondo me è molto carino. Segnalo poi quest'altra notizia che sta facendo il giro di Reddit, l'hanno citata un po' in tutte le salse. PayPal sostanzialmente ha scritto a una donna morta dicendo che avevano chiuso il suo account per violazione del contratto perché evidentemente non era autorizzata a morire di cancro. Una bruttissima notizia che gli appassionati di criptovalute stanno prendendo appunto un pochino per spingere quanto invece sia importante la decentralizzazione. Quindi un sistema come Bitcoin nel quale nessun PayPal controlla tutte le infrastrutture e quindi siamo sempre liberi di accedere ai nostri valori senza che qualcuno ci possa bloccare appunto per motivi come possono essere futili di questo tipo. Ma veniamo alla sparata del giorno, chiamiamola così se ci può piacere. Julian Osp, il cofondatore del progetto della startup 10X, ha sparato, diciamo sparata grossa, ci ha detto che Bitcoin potrebbe arrivare a 60.000 dollari entro la fine dell'anno. È una previsione che già aveva fatto all'inizio del 2018 ma lui continua a credere che questo sia possibile. Ha detto all'inizio del 2018 che potremo vedere Bitcoin a 5.000, a 60.000, a 5.000 più o meno ci siamo arrivati. Quindi lui dice ho azzeccato un pochino il fondo del barile, mi aspetto che possa andare anche a 60.000. Francamente mi sembra un pochino una sparata grossa vederlo a 60.000 entro la fine dell'anno ma nessuno ovviamente ha la sfera di cristallo per dire se sia vero o meno. Abbiamo sentito il responsabile di fans tra l'altro giorno dire che secondo lui si supereranno facilmente i 20.000 dollari entro la fine dell'anno. Sono tanti rispetto ai 6.000, 6.500, 7.000 nel quale ci troviamo in questi giorni. Quindi chiaramente da 7 a 20 il salto è importante. Questo addirittura ci sparla di 60.000 dollari quindi sarebbe un salto ancora più importante. Ovviamente il nostro amico Giuliano Osp argomenta un pochino le sue argomentazioni. Dice che perché questo succeda e qui io sono d'accordo con lui al di là della cifra esatta della quale personalmente non ho nessunissima idea. Però perché Bitcoin possa veramente tornare ad esplodere di valore è necessario che ci sia un catalizzatore quale potrebbe essere un Bitcoin Exchange Trade Fund. Cosa significa sostanzialmente un ETF quindi come dicevo l'altro giorno la possibilità di pacchettizzare la blockchain Bitcoin tutto quanto in uno strumento che possa essere venduto tramite i canali bancari tradizionali. Quindi questo catalizzatore arriverà in questo momento abbiamo sentito l'altro giorno che il CBOI di Chicago appunto ha proposto all'ente che supervisiona la SEC l'ente che supervisiona appunto la borsa americana la possibilità di fare un ETF con Bitcoin e blockchain in questo momento lo stanno valutando. Se questo fosse possibile Osp dice si aspetta appunto questi 60.000 dollari. Ovviamente perché questo sia possibile lui dice che deve succedere che Bitcoin superi i 10.000 dollari entro agosto e da lì continuare appunto a crescere anche spinto da questo ETF. In linea di massima al di là della numerica ripeto nella quale francamente trovo un po' che lasci il tempo che trovi dice un sacco di cose corrette questo l'imprenditore fondamentalmente dice anche che una volta che il trend ricomincerà a salire soprattutto se fosse come in questo caso spinto da una notizia importante come il lancio di un ETF la stampa specializzata ricomincerebbe a parlarne da lì ricomincerebbe a parlarne anche la stampa generalista ed ecco che l'interesse del mercato retail per le criptovalute ricomincerebbe a crescere come abbiamo visto fare sul finire del 2017 e da qui potrebbe esserci appunto l'esplosione del valore che tutti ci speriamo ci speriamo che avvenga succederà non succederà ovviamente non lo possiamo sapere d'altra parte anche il responsabile tecnico di Ethereum ci dice che stanno lavorando a una soluzione di secondo livello per fare scalare Ethereum e farlo diventare ancora più veloce quindi in linea di massima al di là dell'andamento dei prezzi c'è ancora tantissima evoluzione tantissimo movimento e sviluppo nel settore di un po' tutte le blockchain più importanti altra notizia che mi ha colpito stanno vendendo questo titolone un po' così sparato a chiappa click che le persone stanno vendendo le case per bitcoin in particolare non si tratta di un appartamento ma c'è questa casa nel Connecticut che è appunto in vendita per 250 bitcoin grossomodo 2 milioni di dollari che cosa significa secondo me non significa assolutamente null'altro se non che questa agenzia immobiliare ha deciso di farci un pochino di pubblicità accettando bitcoin perché fondamentalmente se ci pensiamo non credo che questi qua siano interessati a holdare quindi a conservare i bitcoin oppure a riutilizzarli mi aspetto che una volta che sono riusciti a vendere la casa soprattutto perché magari sono stati spinti dalla pubblicità che hanno ricevuto grazie all'eco mediatico ne ho già parlato tante volte prendono i bitcoin che abbiano ricevuto li vendono alla prima occasione magari ci perdono un pochino di soldi però si portano a casa la valuta fiat niente di niente di più non è un segnale secondo me importante come ho già detto molte volte per l'adozione generale del bitcoin l'ultima notizia che mi ha colpito appunto augur ne ho parlato ieri è la rete diciamo la criptovalute che si basa su ethereum appunto per scommettere su qualsiasi cosa dai mondiali all'andamento dell'economia mondiale insomma di qualsiasi cosa hanno visto 400 mila dollari nel primo giorno di scommesse quindi una cifra veramente importante tra l'altro è anche divenuta in un solo giorno la quinta applicazione distribuita più popolare sulla rete ethereum e sono riusciti addirittura a scalzare il crypto kitties che sono appunto i gattini sulla rete ethereum che in realtà hanno perso moltissimo interesse rispetto al passato però ci sono ancora tante persone che ci stanno giocando augur ad esempio è balzato davanti in una sola giornata e questo sicuramente è una buona notizia bene da zanediturbolab.it è tutto come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare sul pollicione fare mi piace per me è sempre molto importante quindi grazie grazie in anticipo se lo farete per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video ricordatevi di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e anche sulla campanella che si trova di fianco ci vediamo alla prossima ciao ciao